Il velodromo Franconi di San Francesco al campo ospita la 6 giorni di Torino, la gara che anticipa di circa un mese i giochi olimpici di Pechino e alcune delle coppie più in vista del circo della pista partecipano alla gara con lo scopo di perfezionare la loro preparazione. Andiamo a vedere subito tra i partecipanti la coppia costituita dallo svizzero Franco Marvulli e dall'altro svizzero Bruno Risi. Bruno Risi è colui che si è giudicato 8 delle 12 6 giorni che si sono svolte in Europa in questi ultimi mesi. Il gruppo che transita all'interno del catino del velodromo di San Francesco. Intanto sullo sfondo vedete la lunga fuga dello svizzero Bruno Risi. Quest'ultimo ha dato particolare dimostrazione della sua classe di uno stato di forma eccellente con una fuga solitaria che gli ha portato in dote 20 di 31 punti conquistati. Ed eccoci dunque al passaggio, inizia l'ultimo giro, Bertone, Vita al Porte, Ceunchi in guai, Stam, Muller. Attenzione, parte Crancoschi all'inseguimento, il campione del mondo del 2007 della prova Omium, l'atleta della Repubblica Ceca, Ipaio da Passicceria, la Baita, sta guadagnando notevolmente terreno, si alza sui pedali. Eccoci dunque all'ingresso del rettilineo d'arrivo per l'ultimo sprint, per l'associazione degli ultimi 5 punti. Resistono al comando, i corridori in caccia ed è Muller, Ciunchi in guai, Stam e Bertolo Kalkoschi. Vincono la corsa punti che ha aperto il programma di questa serata, Franco Barbulli e Bruno Risi. Una gara tutta all'attacco, la gamba risponde. Sì, siamo in preparazione per Pechino, allora c'è una bella gara per prepararsi e davvero la gamba è abbastanza bene, la forma siamo nel giusto momento, si dice. Parte all'esterno la maglia della Casetti di Martin Blah, Jamie Bolli in la seconda posizione, quindi attenzione al recupero all'esterno di Robert Slippens in maglia della Papaglia Ciai, c'è il testo a testo tra Slippens, c'è anche un tazzone da Slippens, vittoria dunque in questa prova per Robert Slippens. E' stata una gara difficile, su un percorso lungo e impegnativo e con degli ottimi avversari. Sono davvero felice di avercela fatta. Bisognerebbe trovarne di persone, di organizzatori di questo tipo per tutto il movimento ciclistico. Chiaramente la pista soffre un pochino, ma non solo in Italia, però se trovassimo organizzatori di questo tipo credo che le cose migliorerebbero sicuramente. Tu perfume se derrame a mi existir, tus caricias se tatuaron sobre mi, te abrazo hoy, pero sé que te vas, y vivo de las gotas de tu amor. Una bella gara di ciclismo su pista internazionale, che ormai dura da parecchi anni, tutti gli anni migliora. Io sono sempre stato qui, ci sono ancora, sono contento e grato all'organizzazione, ai corridori che stanno facendo una grande gara. Poi in un anno così delicato che è per il ciclismo su pista, l'anno delle Olimpiadi è sempre un anno molto importante, perciò ancora di più assume un significato forte per questa disciplina. da Danievo, presente! Here we go! Let's get loud! Let's get loud! Parte Walter Perez, a lungo dell'argentino Walter Perez, piena metallurgica regnanese, si alza sui pedali Kankoski, che va a riportarsi alla ruota dell'argentino, eccoci all'intresso degli arretti, lino d'arrivo a Alex Kankoski, a bianca Walter Perez supera l'argentino, vittoria per Alex Kankoski! Giovanni Ducci, il pubblico ha risposto alla grande, questa sera i piemontesi si sono dimostrati attenti e interessati alle gare su pista. Io direi che non solo si sono dimostrati attenti a questo tipo di manifestazione, a queste germesse su pista, ma l'abbinamento pista-strada, vedi domani, mi sembra che sia l'optimo per tutte le infrastrutture del Piemonte e per tutto il ciclismo piemontese. Se noi oggi non capiamo che il ciclismo lo dobbiamo risviluppare a 360 gradi, compreso il fuoristrada, non abbiamo capito niente, quindi, ahimè, noi cercheremo di metterci al passo con i tempi, senza contare che noi a fine mese, a 33, non abbiamo anche i campionati italiani giovani su pista, proprio su questa pista. Quindi, abbiamo lavorato quest'anno, direi. La splendida e avvincente gara dell'americana è sicuramente la gara più attesa di questo venerdì, chiude la giornata di gara, una manifestazione spettacolare con tentativi di conquista del giro e il lancio tra i compagni di squadra, lo vedete proprio in questo momento, atleti che vengono lanciati dai propri compagni di squadra, sia a caccia degli atleti che sono nelle prime posizioni, sia a caccia del giro. L'americana conclusiva, dunque, che si disputa sugli 80 giri, che vede un continuo alternarsi di coppie in testa alla classifica, a frutto di numerosi attacchi e giri guadagnati che hanno spesso rimescolato le carte in tavola per quel che riguarda la classifica provvisoria della gara. Davvero in grande spolvero, la coppia cieca Milan-Kadlek-Alois-Kankowski della pasticceria La Baita, che si aggiudicano l'americana con 24 punti, ma la coppia Risi-Marvulli, grazie ai 6 punti totalizzati in questa gara, riconquista le insegne di leadership della classifica finale. Ed eccoci dunque al passaggio, inizia l'ultimo giro, silenzio Bruno Risi, silenzio Bertolo, quindi Kankowski che sprinterà per la coppia, il ballo della pasticceria La Baita, Bruno Risi ha guadagnato, un leggero margine di vantaggio, Kankowski in seconda posizione, quindi abbiamo Bertolo, abbiamo Sauele Martoli, è l'ultimo sprint, Kankowski intenta di affercare Bruno Risi all'ingresso della rettina, e arriva dentro la recupera di Samuele Martoli, e l'ultimo volante dell'americana, attenzione Kankowski! Vincolo, l'americana chi chiude il programma di questa serata di rappresentanti della Repubblica Ceca, Alois Kankowski e Milana Karnek! 50 anni sono un traguardo importante, qual è il bilancio di queste nozze d'oro? Il bilancio è comunque i 50 anni di una società che è nata con poche persone, oggi siamo circa 300 tesserati, quest'anno abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere, pertanto siamo contenti di aver raggiunto il cinquantennio con tutte queste vittorie! E' l'ultimo volante della Corso Punti che ha aperto il programma di questa serata, finale alla serie a giorni di Adorino, votazione a centro pista, attenzione per i nostri votazioni! La Marchiola è una grande società che si impegna sia su strada che su pista, abbiamo un direttivo che ci permette di alternare le due cose, ringraziamo loro che ci danno i mezzi, le opportunità, e soprattutto gli organizzatori di avere la costanza di fare questi eventi che in Italia non ci sono e servono sempre di più. Vittoria Argentina nella serie Sprint, una gara dove i punti conquistati nelle volate venivano direttamente inseriti nella classifica generale. Sebastian Donadio e Dario Colla della CR Technology hanno totalizzato 10 punti, frutto di due volate vinte, mettendosi così alle spalle la coppia di Hong Kong, formata da Wong Kampo e da Cheng King-Wai della GSA, che ha chiuso la gara con soli 8 punti totalizzati, terzi gli austriaci Graf Muller della ISAC con 7 punti. Nell'ultimo giro, Donadio Colla 10 punti, Graf Muller 7, queste le prime posizioni, lì penso fare l'andatura, è l'ultima volata, parte Sebastiano Donadio dal centro gruppo, c'è l'allungo in queste fasi di gara, Marzoli ha la sua ruota, attenzione allo sprint, 5 punti in paglio, resiste al comando, walk a un po', parte all'esterno anche Alex Putzoni e Martin Blah, quindi Donadio in quarta posizione, e Jim De Cugge torsato riguardo a questo sprint, walk a un po', Putzoni, Blah! Sì, è questa gara del minacone Graf, attenzione al recupero di Angelo Ciccone, Maglia Verde dell'ecologica carabesana, GRM per Ciccone, all'ingresso del rettilineo d'arrivo, Ciccone che va a prendere la testa di Sessunica, la prova dell'eliminazione, primo Ciccone, secondo Dracula! Una bella vittoria stasera, in una specialità molto amata dal pubblico. Sì, l'eliminazione è comunque una specialità molto, molto bella, molto appassionante, ogni giro si elimina un corridore, ed è appassionante. Marco Villa, grande vincitore di sei edizioni della Sei Giorni, tu qui sei praticamente a casa. Sì, questa è una Sei Giorni dove ho raccolto le maggiori vittorie, mi spiace molto non essere qua, anche se sapevo che era l'ultimo anno, però, insomma, visto che era l'ultimo anno, mi sarebbe piaciuto partecipare, dare l'addio in bicicletta, invece ho dovuto forse maggiori essere qua, in vestiti borghesi, e ringrazio per il premio che mi ha dato ugualmente. Eccoci dunque alla conclusione della prova, e vabbè, attenzione al tempo, 22 e 256, è il nuovo record della pista! Grazie a tutti! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille! Grazie mille, 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 gra stasera abbiamo assistito a uno spettacolo che vale tutta la sei giorni sicuramente. In breve il periodo di un minuto si è abbassato per due volte il record della pista con dei campioni che veramente stanno andando a mille perché hanno una preparazione incredibile per le prossime Olimpiadi di Pechino. Siamo la gara più attesa, l'americana finale, 80 giri da percorrere, la coppia svizzera Risi e Marvulli ancora protagonista con il successo in questa ultima gara, la gara di chiusura della sei giorni di Torino, gli svizzeri Bruno Risi e Franco Marvulli aggiungono una perla che mancava alla loro collezione, la sei giorni di Torino. Hanno preceduto in classifica generale gli argentini Dario Colla e Sebastian Donadio e gli olandesi Slippen e Stam. Va così in archivio un'eccellente settima edizione della sei giorni organizzata al velodromo Pietro Francone di San Francesco al campo dalla società ciclistica Francone presieduta da Giacomino Martinetto. Un'edizione che lascia in eredità, oltre alla grande caratura tecnica dei concorrenti, il nuovo record della pista, 22 secondi e 119, fatto segnare da Colla e Donadio nel giro lanciato. Inizia l'ultimo giro, l'applauso per gli atleti, l'ultimo giro per Sebastian Custent. Vincere attenzione, parte Robert Slippen, il cambio tra Colla e Donadio, 10-6-4-2 in punti e va a sprintare anche Franco Marvulli per l'ultima volata, hanno un giro di vantaggio, vogliono essere i dominatori di questa edizione della sei giorni di Torino. Marvulli, una sei giorni combattuta fino alla fine, avete fatto un'americana straordinaria. Sì, ce la siamo messi tutti. Torino era uno dei obiettivi che avevamo quest'anno, sia Bruno che io non l'abbiamo mai vinta. Sì, erano questi i due obiettivi, Torino e i giochi olimpici. Adesso pensiamo a Pechino e siamo contenti di aver vinto qua. Bruno, 55-6 giorni vinte in carriera, sono un bel primato. Una bella cifra, no? No, l'hai, c'era uno delle poche sezioni che non ho ancora vinto e quest'anno abbiamo riuscito di vincere questa sezione a Torino, fa una bella soddisfazione. I'm not gonna write you a love song, cause you asked for it, cause you need one, you see. I'm not gonna write you a love song, cause you tell me it's make or break in this, if you're on your way. I'm not gonna write you to stay, if all your hand is leaving, I'm gonna need a better reason I'm not gonna write you a love song today.